Dopo Federico Calvani messo agli arresti domiciliari cinque giorni fa, potrebbe esserci un secondo medico in provincia di Pistoia che simulava le somministrazioni di vaccino anti-covid. Sarebbe il medico di famiglia che secondo quanto si apprende avrebbe registrato Calvani nella piattaforma informatica nel registro sanitario regionale dei vaccinati contro il covid per fargli ottenere il super green pass sulla vicenda. Calvani indaga la procura di Pistoia nelle intercettazioni, infatti con le micro spie piazzate dai carabinieri di San Marcello Pistoiese, Calvani dice a una sua paziente io ufficialmente sono una persona che è a posto con il vaccino, ti sei vaccinato chiede la donna e Calvani no no se ora non ti posso dire per l'ordine dei medici di Pistoia e il dottore è in regola con l'obbligo vaccinale, ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro nella giornata di mercoledì. Calvani sarà interrogato dal GIP? Le accuse nei suoi confronti sono di falsità ideologica, peculato e truffa e intanto sono sempre più palesi le intercettazioni, soprattutto quella del 22 dicembre del 2021 quando le micro spie piazzate dai carabinieri negli ambulatori dei medici di famiglia di San Marcello Pistoiese si sente dire, senta dottore, qui fuori ci sono le figlie della signora S, con il padre, si ricorda, gli fa la soluzione? sì, chiaramente, gli fa la soluzione fisiologica, risponde il medico